Ciao a tutti ragazzi, noi siamo i Rec e benvenuti in un nuovo video su FIFA 17 Oggi il grande ritorno di una serie che veramente ci piace da matti, spero piaccia anche a voi E' la serie di Big Mac Maccarone Praticamente un road to glory nel quale terremo fisso il nostro Big Mac E gli altri tutto intorno li cambieranno, quindi si formerà una squadra perfetta con Maccarone Ovviamente a fine episodio il peggiore in campo verrà sostituito da un giocatore che vi chiederemo In base a una tabella che abbiamo fatto Purtroppo non ci ha registrato la prima partita nel quale abbiamo sostituito il centrale di difesa con Paolo Cannavaro Visto che avevamo fatto un gol con Big Mac Quindi partiremo dalla seconda e speriamo che il video vi piaccia Ok ragazzi, il peggiore è stato Bertoncini, quindi l'abbiamo sostituito con Paolo Cannavaro Perché ci ricordava i mondiali del 2006 anche se non è lui, è il fratello E quindi un 76 Oh, quella pelata Quella pelata è abbastanza buona dai Adesso andremo a giocare un'altra partita Sempre in divisione 6 Perché troviamo avversari un po' più impegnativi E quindi magari vi piace di più Abbiamo la coppia Berni aveva fatto dei miracoli Anzi, la tripla dei pollici Berni, Cannavaro e Macarone Questo è portissimo Ma io lo passo, mettila un diviso dell'ape che mi piace Ops, l'ape, hai anni Ma uno che vede la nostra formazione cosa dice? Cioè, questi... Questo è il primo Questo è straforto Ma forti Cioè, come faceci c'cunza? O è morato? No, è morato Cazzo, vedi? Che è quello della finita? One friend Ah no, quella finita La punta? La punta sinistra Eh sì No, con one friend è quello... Quella faccia da morto Gli disco è forti Ragazzi, le prenderemo ma ci prendiamo Non mi come si interisce sempre bene Non mi? Virli Che c'è? Un ritro Bel tiro Io mi ho fatto il gioco Ragazzi, abbiamo fatto una partita Delle partite Che non ci ha registrato Cioè, ci ha registrato ma... Io vi dico solo Laudio non andava Il rigore di Big Mac al novantesimo Cazzo di chi è un autogol pazzesco Peggio di Ramos Io ho fatto un autogol con Alaba uguale Ma perché lui? Si infortunerà Dai che sei in corsa Kingsley, mandate Ma sono lentissime a rientrare Ah naga, abbiamo gente di 60 Sì, c'è di tiro Ormai l'ha capito più niente Cazzo Dai No, dai L'errore pazzesco Guarda, attento quello giù Quello giù, Ricky E buonanotte Vai trago Ma che fuori gioco Si capiva vent'anni prima che tagliava il gioco Tu me l'hai buffata? Coglione di Morata Prima mi hai detto Deve mantenere sui solito fare il gioco Ma potresti, potevi anche segnare Non era sintomo di Non era sintomo di Non era sintomo negativo Ci crediamo Cazzo bello questo Eh fanculo Patrizio Mamma Patrizio Vai Alessandro Savione Vai Alessandro Savione Ostruzione Bravo Bravo Bec Mamma mia Bec Che azione Fate l'ho sulla mano Come si è rotolato sulle telecamere Guarda, guarda che tiro Pazzesco Piozzato di big Godo Francesco È tornato allo stronzo Uh bello questo Vai Dumitru Vai Dumitru Berbatov Oh Stiamo giocando meglio adesso Bello l'inserimento di Savione Deve segnare lui Il tiro Ronny Ronaldo Il fenomeno Cazzo Lo aspettiamo Cazzo bella stazione Ah gol Traverse Fanculo va No no va bene L'azione è bella Proprio sto filo Aveva pure sbagliato Io avrei tirato giù Madonne Oh big mac è sempre Il vivo del gioco Bravo Non lascia uscire Eccolo Ma che tiro di me Buoteng Eh l'avrà colpito male Va bene è ancora nostro Ancora nostro Eccolo Bello vai big Oh Eccolo Eccolo Noi comunque dieci tiri Lui quattro Eh fanculo Tento 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 Fanno pochi tiri Poi 45 esigo Si Ho visto fax Ho visto Bello 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 Ti rassati riprende Rigore Ma come Siccome era rigore Ahia Ragazzi Il mio turno Pazzesco Tommaso Da sicurezza Il reparto Riva disco Tommaso Va bene Ma Patrizio Ragazzi cos'è Strabrava Eccolo big Eccolo big Piazzalo Piazzalo Tira 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 Big Mac Doppietta Guarda come capriola E' migliorato negli inserimenti Come capriole Bello Bello Oh qua bella azione Spero che Gerli sia il peggioro Non l'ho detto Bello Vai 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 Eccolo bravo Dumi Ragazzi tutto di prima Piattone Guarda che bello Mamma cazzione No Ragazzi un'azione fantastica Dumi C'è la sua gamba a piegarsi Mamma di tacco Hai visto Ma cazzo No edo l'inserimento Guarda no Patrizio Ragazzi sto giocando benissimo Sto mettendo la tattica di Giovanni Gianni in pro E' facile Non farmi ridere E cazzo Vedo di mantenere Dai G dai G No figa No 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 Esci Ma che palle Guarda big Alto Figa Ma guarda che FIFA ti fa così ti fa perdere e ti vincere al novantese Dai cazzo Ma ho pure giocato benissimo Sto facendo le azioni benissimo Ma c'è la doppietta di Mac Vabbè dai Ragazzi è una bella partita Che è pregiore Che è pregiore Cannavalo No dai No Bernie mi sa No Bernie Eh ragazzi tocca Eh no ragazzi tocca Ragazzi tocca È la fine come dire No ci mancherà Ragazzi è come dire La fine di Maldini No noi non puntare con Macarone No con Bernie Eh ragazzi Io non posso far questa Ma devi farla tu Ok ragazzi eccoci qua Con la formazione Abbiamo sostituito Bernie Il nostro cuore pulsante Della squadra Insieme a Big Mac Ma L'abbiamo rimpiazzato Con Donna Rumma Un buco nella squadra È vero Mal in cuore Ma facciamo a cagare Ma che cazzo Diciamolo Fa cagare Abbiamo giocare Sta cazzo di partita Cornetto Ma voi lo pigliate Ma voi lo pigliate Pigliatelo Vediamo la squadra Oh dai su Oh eccoli Robardi Slimani Martiali Che è l'esterno Più forte Ma ti prego Guarda il terzo Quanti anni ha 82 È Martiali Che è anche Alex Gioche in due squadre Allegri Guarda che faccia di merda C'era Allegri Sì Ragazzi Da ragazzi Concentrati Perché basta Uno che ho sentito le mani Deve essere perso Tu capisci Doomi Bello sto Per lì Ma guarda tutto Per sabbio E vabbè Maccarone Va bene Va bene Guarda la sovrappone Comunque ragazzi Se mi interessano Tattiche di FIFA Dovete andare sul canale Di Mr. Jono Ho anche detto Giovanni Giovin Che ha 4.000 Iscritti Sono tattiche perfette Io sono in divisione 1 Grazie a lui Non è uno scherzo Veramente Oh guarda l'inserimento C'è il 2.0 Guarda Ricky Bello sto passaggio È fantastico Ricky Che cazzo vuoi Gioca tu Ma non è Non lo so Fai 90 minuti tu Non ti vediamo Quanto finisce Mi sa che hai preso Due golli In 6 minuti Quante spellere Un difensore È bello qua Vai di prima Sono lenti Ma è stato Deve venercelo Almeno Almeno credo Come dice Pietro Longo Il fondamentale No vaffanculo Figlio di puttana Qua ci sta un bel figlio di puttana Ma perché chi è sto qui Isla muslima Isla muslima Ricky concentrati Ma dov'è che vai Ma questo sarà lungo da studio Ascolta non devi cercare scuso Ma non dico che è scarso Dico che sta giocando male Eccolo Minchia donna room Ma aspetta Ci sono ancora 60 minuti Dai Puoi andare dritto Ricky stai giocando male Tu anche Dai Stai sbagliando Tutti i passaggi No vabbè Lui è forte Guarda che strozza Sei forte Dai Mok su concentrati Dobbiamo provarci Giovanni se esisti Giovanni aiutaci tu dall'alto No non è morto però Dai vai fuori Oh bravo L'hai puttata fuori Giovanni se esisti Giovanni se sei con noi Dacci una tattica Non mi pare ridere Dai su eh Dai Oh Dai Bello Dumetru Ma Ronny Godò Ronaldo Godò Cifro Ronny 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 Non è vero Era per dire Per fare una situazione Un po' più tragica Poverini Comunque voi iscritti Siete fati Io ti prego Siete Fantastici Ora è l'elastico di Big Mac Mamma è davvero Guarda guarda come ci amore in Galluzzi Oh Tira la Ho visto il Sabions Oh ma Sabione Che tiro di merda Sabione Quanto sei gli scant Avevo visto il Sabione Oh Era un raccio No Di aver voluto X Porca Che lo tiro Dai che ha sbagliato L'ultima ziona Il 45 tempo c'è il bug È vero Di sotto c'è C'è il bug Guarda qua Non fare boiate Cross e mezzo L'ho visto Oh Eccolo il gol Dai Tu mi trusci Mermatov Vai andiamo a fare il quarto Dai Allungatela No no è troppo lento Non farlo Eh vedi è troppo lento Eh ma la perdevi comunque Dovevi farlo prima Quando sei davanti Qua volta arriva a palleggio Sì va Dalla donna rumba Al novantese Dalla donna rumba Mi si è palleggiato Sì Però Mi farei più Dai godo Adesione Dumi Dumi Adio Non mi Attenzione Vamooos Quattro gol Toll Lionese di merda Che cazzo E poi anche Assis Ma contro di me Era straforte Haters Ma voi dove cazzo siete? Eh non fai più palleggi Con il portiere del cazzo Eh Haters dove cazzo siete? Eh sto perdi tempo Edo Mangia la baguette Ma questo non sei italiano Guarda che sei italiano Ma no È mio padre Ah ok Scusate E lancia sto cazzo di Dumitru Che cazzo Va bene anche così Eh io sono Vedi le tattiche di Giovanni Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Godo un cifro! Mi consiglio Pietro Logo Nostro mister per chi volesse volerlo sport inglinato Troverete Pietro Logo Palleggio, palleggio Allora mangia la baguette Eh non parli più eh Sabbione grandissimo Centrocampista perfetto Voglio vedere che è il peggio Tu stai godendo Grandissimo Ragazzi stiamo godendo perché dopo il 2 a 0 Sembrava persa ma Quattro gol Che è? No Gerli No Kingslay Ok ragazzi queste sono le alternative Perché partitona oggi però Doppietta Possiamo prendere un massimo 80 Quindi della Serie A abbiamo scelto questi giocatori Abbiamo Iturb Biabia Il Cardellino Sugo Il Falco Iago Falc Il Prete Pride Esatto Aia Non era una battuta Scrivete nei commenti Diteci se questo episodio vi è piaciuto Altrimenti scriveteci Fate cagare Passate da Giovanni Giallimpro Grazie per le tattiche abbiamo vinto Infatti perdiamo 2 a 0 Senza le tattiche poi Abbiamo messo abbiamo vinto Quattro gol Ciao ragazzi No no ragazzi ce la facciamo Promessa dire Dai Ricky però è il suo concetto